Smaltita la rabbia per la sconfitta e il rigore contestato che ha permesso a Come di battere calore per il Teramo è già tempo di archiviare il menti e pensare alla prima al Bonolis contro il Ravenna. Non sarà una sfida semplice, anche perché la formazione di Antonioli ha appena rimediato 5 sberle a domicilio dalla Triestina e di certo non ci starà a fare la comparsa anche in Abruzzo. Ma il Teramo dopo le due trasferte consecutive non può permettersi più passi falsi? È evidente che l'inizio, almeno fino alla gara di Vicenza, era vissuto come una partenza complicata e a singhiozzo durante la quale per mettersi anche qualche inciampo, specie considerando il valore della squadra affrontata domenica. Ma adesso le cose cambiano radicalmente. Asta ha bisogno di una vittoria per partire davvero dopo la beffa rimediata al minuto 84. Noi andiamo anche per la nostra strada, ci mancherebbe, non era qua a fare punti, anche se dopo alla fine ci speriamo per come è andata la partita. Non cambia nulla, cambia un po' nel morale dei ragazzi perché pare perderla così a pochi minuti dalla fine dispiace. Il rischio per l'esordio davanti alla propria pubblica è quello però di dover fare a meno ancora di Stefano Amadio. Il centrocampista non ha smaltito l'infortunio che gli ha fatto saltare i primi due impegni di campionato e rischia di dover rimanere ai box anche domenica. Una notizia non positiva per Asta che già dovrà fare certamente a meno di Graziano, espulso nel finale di gara del Menti e che sarà indisponibile certamente con Ravenna. Rimarrebbero solo quattro uomini per tre maglie, Ilari, Varas, De Grazie e Paulucci, con i primi tre che sembrano favoriti per partire titolari e col quarto che entrerebbe in corso d'opera. Sfida delicata dunque perché dopo la partenza, sempre lontano da casa e la sosta a interrompere l'avvio, da ora per il Teramo il campionato comincia davvero. Grazie. 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 Grazie a tutti